Buonasera a tutti e ben ritrovati con l'appuntamento meteo di Antenna 2. L'inverno si avvicina al nostro territorio, infatti la prima eruzione di aria fredda proveniente direttamente dalla Scandinavia si riverserà sul Mediterraneo proprio nella giornata di domani. Di conseguenza avremo il primo deciso abbassamento delle temperature già a partire dalla giornata di domani. Andiamo con ordine, vediamo che proprio nella giornata di domenica avremo un nucleo depressionario, un centro depressionario posizionato sul terreno e questo andrà a pilotare aria molto fredda proveniente dalla Scandinavia. Di conseguenza domani ci attendiamo un generale calo delle temperature, venti molto freddi e intensi soprattutto in montagna e non escludiamo, specie al mattino, delle spruzzate di neve oltre 1500-1800 metri di altitudine. Poi questa perturbazione rapidamente lascerà il nostro territorio e già dal pomeriggio di domani avremo ampie schiarite a partire dai settori più occidentali, mentre continuerà a nevicare molto forte sui colfini alpini più settentrionali, quindi ci attendiamo delle nevicate copiose in Valle d'Aosta così come nella zona di Livigno e la Valtellina. Ecco, come andrà a partire da lunedì? Vedete che il nucleo depressionario e il maltempo si sposterà verso le regioni adriatiche, dove addirittura la neve potrà fare la sua comparsa sui rilievi appenninici orientali fino a quote medio-bassi, intendo dire fino ai mille metri. Cosa succederà invece da noi a partire da lunedì? Arriverà il sole, ma col sole scenderanno anche le temperature, perché quest'aria gelida si getterà a partire proprio da lunedì dalla porta della Bora in Valle Padane. Avremo un calo sensibile delle temperature con minime che scenderanno al di sotto dei 5 gradi. Vedete ancora sui confini alpini più settentrionali continuerà a cadere abbondante la neve, mentre noi rimarremo protetti proprio dalla barriera alpina. Vediamo oggi l'animazione da satellite che vede la prima perturbazione che ormai è transitata, ma un'altra dal nord Europa si posizionerà proprio nella giornata di domani a ridosso della catena alpina e porterà un po' di instabilità atmosferica. Quindi andiamo all'evoluzione del tempo per domani, che vede un cielo coperto al mattino con possibili piogge o piovigini e un calo delle temperature, pressione atmosferica in diminuzione fino a 1.500 millibar, infatti ci troveremo molto vicini al centro di bassa pressione, venti forti in montagna con raffiche oltre i 60-80 km orari, oltre i 2.000 metri di altitudine e spruzzate di neve intorno ai 2.000 metri. Poi nel corso della giornata il tempo andrà gradualmente migliorando, infatti i venti secchi settentrionali sposteranno le nuvole verso gli appennini e di conseguenza noi avremo le prime schiarite a partire da ovest, ma il clima resterà sempre piuttosto variabile e piuttosto fresco. Evoluzione del tempo per la settimana. Vedete che il tempo comunque sarà generalmente buono, con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, ma sarà proprio l'abbassamento delle temperature che si farà sentire. In generale lunedì sarà una giornata molto ventosa, con venti intensi settentrionali, venti di fön, che interesseranno il nostro territorio. Minime acclusione sui 5 gradi, massime non superiori ai 10 gradi. Martedì si scenderà ancora di un grado, con valori intorno ai 4 gradi di minima acclusione, con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Mercoledì avremo delle velature che copriranno il nostro cielo, ma nessuna precipitazione all'orizzonte, pressione atmosferica in aumento. Vedete come fra giovedì e venerdì una nuova irruzione di aria fredda si riverserà sul nostro territorio e le minime acclusione potranno raggiungere quasi gli 0 gradi, quindi le prime gelate anche nella città di Clusone. cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, venerdì velature in aumento in attesa di una perturbazione che non escludiamo che possa portare le prime spruzzate di neve fra sabato e domenica fino a quote relativamente basse. Di conseguenza l'inverno sembra davvero entrare sul nostro territorio. E per il Mettetutto vi aspetto sempre qui sabato prossimo su Antenna 2.